Il programma elettorale, 5 anni per cambiare città come ci siamo riusciti e il cittadino di Tarquinio ci ha dato merito, ci ha dato ragione, ci ha premiato e quindi siamo stati riconfermati al primo turno con un bel risultato anche se avevamo altri 6 candidati con altri 10 liste che tutti insieme combattevano un unico candidato e quindi questo ci fa piacere e noi continueremo su quella strada che abbiamo fatto, quella della vicinanza cittadina, di interessarci ai problemi della città con trasparenza, con està, con serietà, anche con capacità, forse anche con un modo di fare un po' di tutti perché poi alla fine sembra che sia solo io ma vedo tanti altri che siano irruenti o appassionati, forse c'è la troppa passione di vedere una città che deve continuare a crescere e che ti dà quel modo di fare. Vedo con piacere tanta gente riseduta nello stesso posto, ma vedo tanto con piacere tanta gente riseduta nei banchi dell'opposizione, anche se si lava, cioè nei banchi del pubblico, anche se si lava, non erano diventati tutti i supermer, tutti i ercoli, tutte le cose, vedo che stanno lì. Io ho chiesto di lasciare le poste liberi e posso, se permettetemi questa battuta, perché ho subito tante battute venenose più o meno offensive che una battuta migliore.